3 consigli per migliorare istantaneamente le tue improvvisazioni Canta prima, dopo e durante le tue frasi Non suonare sempre sui box Ma sperimenti ad esplorare in orizzontale Strutture a domanda e risposta Questi e mille altri consigli all'interno del mio corso Improvvisazione facile, link in bio o in descrizione del video Ciao